buongiorno allora voi sapete che finché non ne ho la certezza assoluta non mi piace vendere notizie anche se date per fatte io voglio avere una certezza al 100 per cento è chiaro che le indicazioni di cui vi sto parlando a molti non piaceranno le indicazioni che stanno arrivando è che allegre sempre più vicino alla riconferma sulla panchina della juventus per tutta una serie di ragioni perché è stato individuato comunque dalla proprietà come diciamo colui che può ricostruire la juventus e riportarla a sostanzialmente a occupare una delle prime quattro posizioni in classifica per la prossima stagione bisogna considerare sicuramente anche l'aspetto economico alla base di queste indicazioni che si stanno facendo sempre più come dire importanti ossia il fatto che allegri abbia dalla sua un contratto di altri due anni per una cifra lorda che sfiora solo per lui i sette più 26 milioni circa in più c'è lo staff e quindi bisogna aggiungere sicuramente altri soldi e quindi una juve in chiara difficoltà economica dal momento che non avrà l'introito della champions league si trova in un certo senso non dico costretta ma comunque deve tener conto anche naturalmente di questo aspetto io però ripeto cioè sono indicazioni che arrivano sono indicazioni e in questi casi secondo me bisogna aspettare sicuramente una sorta di comunicato che la juve in realtà potrebbe anche non fare perché era stato fatto ai tempi di conte quando via tweet era stato scritto conte il nuovo arresto allenatore della juventus anche per la stagione tot e poi si conte si dimise vi ricordate quella famosa situazione un po anche anomala perché se è un allenatore sotto contratto non c'è necessità che tu emetta un comunicato per confermare la permanenza però è chiaro che tutti ci si attende che da parte della società ci sia qualche cosa qualche dichiarazione qualcosa che fa capire insomma che non si arrivi fino al 10 di luglio ad accordarsi che massimiano allegri è resta allenatore della juventus anche in c'è in base al fatto che si presenti alla continassa il 10 di luglio insomma ecco capite che sarebbe sarebbe un non dico un errore di comunicazione perché no ripeto perché formalmente la juve non ha nulla da comunicare no però credo che sia doveroso vista la situazione in cui si trova la società vista la la presa di posizione della stragrande maggioranza a questo punto tocca dirlo della tifoseria che è schierata diciamo così per un cambio di allenatore sarebbe il caso che la società si facesse sentire in questo senso però ripeto io sto parlando di una forte ipotesi di forti indiscrezioni non sto ancora parlando di una notizia ufficiale perché elementi per dire che una notizia ufficiale in questo momento mentre sto registrando io ho anche aspettato un po' perché ho cercato di raccogliere di qua e di là un po' di informazioni certo tutti mi dicono sì dovrebbe essere lui 90 su 100 è ancora lui ma c'è quel margine 10 per cento ancora da verificare nel quale rovistare per cercare di capire se effettivamente c'è una parte della società e c'è stata e comunque quindi evidentemente c'è ancora una parte della società che vorrebbe provare una nuova avventura sulla panchina naturalmente vediamo vediamo ragazzi intanto abbiamo risolto il mistero dell'allegre arrabbiato e di cui avevo parlato andatevelo a rivedere anche il video dell'immediato post udinese juventus quell'allegre che arriva nella mix zone con un volto scurissimo arrabbiatissimo e si dirige poi a salutare un amico che lo aspettava lì dietro era arrabbiato ragazzi per il rigore dato alla Roma adesso io me lo sono guardato un po' meglio e devo dire che sono quei casi limite sono quei rigori diciamocela tutta no che si possono dare e molto più spesso si possono non dare il VAR non interviene o comunque conferma conferma la sensazione dell'arbitro onestamente io non vedo tocchi esagerati su credo al Sharawi adesso non ricordo bene ed è chiaro che questo ha fatto molto arrabbiare a Liri perché in quel momento lì era il rigore che decretava l'accesso della della Juve alla Conference League e l'addio all'Europa League al netto naturalmente di quanto deciderà Schaeferin cosa cosa ha fatto arrabbiare a Liri c'è stata una discussione con Calvo lì a quanto pare rimproverava a Liri il fatto che insomma che la Juventus non si faccia rispettare queste sono quantomeno altre indirizioni che sono arrivate in base al in seguito a quell'episodio quindi è una Juve che non si fa rispettare sostanzialmente diciamo già tutta che si fa prendere in giro perché viene privata dell'Europa League che stava conquistando sul campo sul campo avrebbe conquistato la Champions comunque veniva privata dell'Europa League che stava conquistando sul campo con un rigore molto dubbio che Allegri aveva tra l'altro visto su un tablet nei minuti finali infatti era molto agitato nei minuti finali ve lo posso confermare anche lì in campo ed è uscito così molto arrabbiato questo per dirvi che non c'è un clima idilliaco tra Allegri e la società questo per dirvi che ci sono state e ci sono discussioni tra Allegri e la società adesso naturalmente discussioni non ci sono perché Allegri è via si sta riposando è a Livorno si è sbollito però insomma questo vi dà l'idea di un Allegri sicuramente molto nervoso forse anche perché ha messo assieme un po' tutto quello che è successo quest'anno e vedersi sfumare anche all'ultima giornata nei minuti di recupero un'Europa League conquistata sul campo oltre alla Champions conquistata sul campo nonostante la penalizzazione che sfuma pochi minuti chiaramente lo ha fatto arrabbiare e posso anche comprendere in questo caso prendiamo atto dei saluti di Paredes prendiamo atto dei saluti di di Maria mentre non ci sono ancora stati altri saluti ma credo che di altri saluti dovremmo prendere atto da qui alla fine del mese di giugno quando scadranno tutti i contratti e soprattutto quando entrerà un po' nel nel vivo il mercato ragazzi perché perché mi sento di dire che la posizione di Federico Chiesa è sempre abbastanza in bilico vedremo naturalmente se è impegnato con le final four di Nations League o la nazionale e dopo ci sarà un pochino più di chiarezza e soprattutto mi sento di dire che in presenza di un eventuale riconferma sempre più vicina a quanto pare di Massimiliano Allegri credo che la di partita o meglio la partenza di Vlaovic sia rafforzata ecco la sensazione di questa partenza di Vlaovic sia rafforzata eventualmente dal fatto che possa rimanere il tecnico bianco nero perché lui evidentemente non si è sentito valorizzato poi possiamo aprire un file intero sul fatto che anche Vlaovic ci può mettere del suo in tutta questa situazione e ce ne ha da mettere del suo però mi sembra che sia abbastanza evidente che o c'è l'uno o c'è l'altro e le indiscrezioni sempre più forti dicono che resta Allegri e che parte Vlaovic ciao ragazzi ma il mercato non è ancora iniziato ne avremo ne avremo perdonate il ritardo per l'accesso alla rete ciao ciao